Un solo giorno di zona rossa. Il ter dell'Aquila si è espresso, dando ragione a Roma e sospendendo l'ordinanza di Marsilio. L'Abruzzo è quindi nuovamente catapultato nell'area con le restrizioni più severe. È stato ripristinato il principio della tutela della salute, ha commentato a caldo il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Ma la zona rossa non durerà a lungo. In base al monitoraggio di ieri da parte della cabina di regia ministeriale, i dati epidemiologici non sono così gravi e da domenica l'Abruzzo sarà nuovamente in zona arancione, così come già confermato dal ministro della salute Roberto Speranza. E il presidente della regione Marsilio tuona contro il governo, parlando di capolavoro della burocrazia amministrativa. E in effetti la vicenda ha fatto venire a galla tutta la fragilità del sistema dell'Italia a tre colori. La decisione del Tarre era prevedibile. Questo infatti non era chiamato a esprimersi sui dati epidemiologici, determinando se l'Abruzzo fosse da zona rossa o da zona arancione, ma solamente a valutare la legittimità dell'ordinanza regionale. E come è chiaro ormai da tempo, i governatori possono introdurre misure più restrittive di quelle imposte da Roma e non possono invece allentare autonomamente le maglie delle restrizioni. Ma Marsilio si è fatto bene i calcoli. Prima ha salvato i consumi del Ponte dell'Immacolata senza che il governo nazionale avesse il tempo necessario a opporsi e ha poi atteso che la burocrazia facesse il suo inevitabile corso fino all'istituzione della zona rossa per sole 24 ore. Il risultato è che il governo Conte, caduto nel tranello, ha fatto la figura dello schizofrenico a proposito dei repentini cambi di colore, tre nel giro di una settimana. Ma soprattutto Marsilio è riuscito a dimostrare che l'iter burocratico, che impone un numero di giorni specifico riguardo la permanenza in ogni zona, non è necessariamente a attinenza con il mondo reale. Anzi, il sistema dell'entrata in vigore domenicale delle nuove normative è troppo lento. I dati abruzzesi non solo sono da zona arancione, ma alcuni dei parametri sono addirittura da zona gialla. E nella liturgia della politica sono gli abruzzesi ad essere sacrificati sull'altare del consenso. Marsilio torna a fare il presidente degli abruzzesi e non della Meloni, attacca il segretario regionale del PD Michele Fina. Ora, secondo quanto disposto nell'ultimo DPCM, la zona arancione deve durare almeno 14 giorni prima dell'istituzione della zona gialla. Ma a partire da quando saranno contati 14 giorni? Da lunedì 7, basandosi quindi sull'ordinanza regionale, o da domenica 13, basandosi sulla decisione ministeriale? In ballo ci sono le feste di Natale ed è probabile che o da Roma o dall'Aquila si decida di mostrare nuovamente i muscoli. Il semaforo a intermittenza potrebbe quindi accendersi ancora e la storia del waltzer dei colori potrebbe presto ripetersi.